Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Benvenuti alla nuova puntata, abbiamo ospite la doppiatrice, attrice e direttore del doppiaggio, Lilli. A questo punto la prima domanda viene spontanea, che spesso frequentemente forse ti hanno fatto. Se devi descrivere Lilli, chi è Lilli? Lilli è un'anticonformista, è una donna con tanto di palle che non ha paura di dire quello che pensa. Nonostante molte persone mi abbiano detto, però devi stare attenta, altrimenti non ti fanno più lavorare, non puoi dire sempre quello che provi, ma io non sono d'accordo, a parte il fatto che non faccio mai nomi, quindi chi ha la coda di paglia ha un problema suo, ma se mi togliete anche la libertà di esprimermi nei miei pensieri, nel mio dolore, nelle mie gioie, non sono più io. E poi dovrebbero farmi fuori? Dai, provateci a farmi fuori. Poi dovete parlare però con i clienti, quindi sostituirmi sulle mie attrici, che peraltro loro stesse desiderano che io sia quella che le presti la voce. Ma ci sono tante cose in ballo, cioè non si può negare il lavoro a un libero cittadino solamente perché dice quello che pensa, peraltro nel bene dell'arte, e quindi in questo caso del doppiaggio. Io potrei essere fatta fuori giustamente se ne parlassi male. Dicono sì, ne hai parlato anche male. Certo, io parlo male di chi lo insozza questo mestiere, ma non certo di chi lo rende di qualità e pulito, come l'ha sottoscritta. Il doppiatore è una specializzazione, l'attore ha come specializzazione il doppiaggio. Quando ti nasce l'idea di passare da attrice a doppiatrice? Diciamo che io sono un'attrice doppiatrice. Sono anche attrice ma non ho fatto fiction, teatro, eccetera. Io in teatro ho sempre aiuto regista, ho fatto delle esperienze più comunicative, ecco, da questo punto di vista. Io certamente non mi tiro indietro se mi danno una parte in qualche pubblicità d'attrice, è una fiction, come dicevo prima. Però la mia, io tendenzialmente, la mia indole è proprio quella di doppiaggio. Quindi sono un'attrice doppiatrice e specifichiamo, perché i doppiatori sono attori. È alla base della vita, proprio prima sia attori e poi doppiatori. Io ho studiato da attrice e poi comunque ho fatto la doppiatrice, ho deciso di fare la doppiatrice. Che differenza passa, tu sei anche direttrice di doppiaggio, tra doppiatore e attrice di doppiaggio, in questo caso? Cioè doppiatore e direttore di doppiaggio. Che differenza passa tra l'uno e l'altro? Il direttore di doppiaggio intanto è un elemento fondamentale perché è un regista. A parte il fatto che bisogna mettere una cosa tra parentesi, questo mestiere, questa professione va a gusto. Cioè chi piace di più così, chi più colà. Quindi noi direttori di doppiaggio diciamo che iniziamo un cammino insieme all'attore che poi porta a una finalità di risultato qualitativo del prodotto che si sta editando, che si sta doppiando in maniera tale che a parte che deve risultare poi ottimo per il cliente, ma per noi che siamo poi una squadra, fonico, direttore di doppiaggio, assistente e doppiatore, invece cerchiamo insieme un connubio, una coesistenza in maniera tale che ciò che vuole il direttore possa essere affine anche a quello che sa interpretare il doppiatore. A volte non è facile perché ci sono dei doppiatori molto presuntuosi che vogliono le cose fatte come dicono loro, soprattutto i blasonati, che faccio sempre la pernacchia quando dico blasonati, ma perché va di moda questa parola blasonato. Quindi diciamo che tutto ciò che ha a che vedere con la direzione del doppiaggio è estremamente importante dal punto di vista recitativo per il gusto del regista che sta appunto dirigendo il doppiatore nella sua interpretazione. A volte si dice è una bella voce, ma in realtà nel doppiaggio non esiste la bella voce, esiste la voce adatta al personaggio. La bella voce non serve a niente, cioè non è che devono essere tutti con la voce così impostata, non serve a niente, i più grandi doppiatori sono stati quelli che avevano le voci più assurde e non voglio citare nessuno perché non servirebbe a niente, lascio agli esperti il piacere di scoprirlo. Qui non servono le belle voci, non serve avere il proprio attore, serve l'interpretazione, la capacità di interpretare. Io dico sempre non è importante chi doppi, ma come doppi. Quindi io sono per la qualità e non certo per la tecnica, perché la tecnica è una cosa di base che uno impara quando studia recitazione per poi adibirsi al doppiaggio. Però non deve essere una cosa assoluta, non deve essere un fattore assoluto. Il fattore assoluto deve essere la qualità che dà sì, che dà adito poi sia alla credibilità nell'interpretare appunto quell'attore che stai doppiando. E intanto, prima cosa, abbiamo notato che nel tempo un pochettino il doppiaggio è cambiato perché una volta si poteva assistere alle sedute, i ragazzi potevano anche crescere, osservare, ma poi adesso già dal lockdown, prima il lockdown, le sale sono diventate troppo chiuse per far sì che poi la nuova generazione avrà difficoltà forse ad inserirsi. Certo, perché purtroppo tutto è successo a causa di un casino avvenuto con un collega che aveva filmato quello che stava doppiando e allora per privacy hanno deciso che non si doveva più assistere ai turni per una questione anche per i telefonini per registrare, eccetera, eccetera. Ma già questa era la prima motivazione. Poi sì, molte volte capitava anche che alcuni attori non volevano nessuno in sala e neanche in regia perché pensavano che questo li disturbasse, che posso anche concepirlo, a me mi hanno disturbato tante volte mentre stavo in prova perché stavano sempre a ciccio, 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 c'erano questi brusii che non avevano rispetto di chi stava provando le battute, ma più delle volte erano gli attori stessi a non volere nessuno. E poi niente, poi il covid ha messo proprio la ciliegina sulla torta perché ha fatto sì che nessuno più potesse entrare nelle sale. infatti i famosi brusii o piccoli ruoli non si fanno più insieme bensì in colonna separata e questo a noi direttori crea un sacco di problemi perché se almeno prima avevi tutti in sala potevi gestirli un po' 5-10 alla volta adesso ne devi gestire uno alla volta su vari ruoli che è un casino insomma se poi vuoi andare da piano altrimenti fai quei 4-5 personaggi che devono fare poi ne fai altre insomma tre ore di turno di doppiaggio solo per un brusio è tosta e quindi sono spariti quei famosi girotondi che la gente ci stava intorno a questo microfono giravano no no proprio beh sì oddio girotondi sì sono spariti però non è sparita la faccia come il sedere di andarsi a proporre pur non sapendo ancora che cosa significa fare il doppiatore perché molta gente si addita a professionista quando non sa neanche che cosa significa campo lungo su muto insomma tante sfaccettature che purtroppo soprattutto i giovani d'oggi pensano che il doppiaggio sia una professione dove guadagni facile e che la fai basta avere tanta tecnica ma non è così quantomeno con me nessuno lo fa non lo può fare nessuno riconosce essere avere avuto un premio per il lavoro che si fa qual è la soddisfazione soprattutto l'emozione che si prova in quel caso ecco io ti devo dire questo il parte che il premio che ho vinto io grazie al cielo è un premio che è lungi proprio da essere uguale a tutti quegli altri che si danno tra di loro nel doppiaggio perché chi li istituisce sono doppiatori stessi che poi scelgono altri doppiatori tra amici, non amici chi è più bravo chi ritengono meno bravo gli danno questo premio questi premi che ne hanno istituiti talmente tanti che veramente è tutta una cazzata perché secondo me i premi importanti possono essere veramente il Davide di Donatello il nostro argento dove ci sono varie categorie e appunto anche il mio quello che ho vinto io che mi sento di una fierezza pazzesca e certo non avevo bisogno di doppiare quell'attrice per forza o fare solo protagonista per vincere un premio perché bisogna togliersi dalla testa che i premi non vanno dati ai primi attori alle primi attrici vanno dati a tutti quelli che si sono sacrificati per anni per fare questo mestiere io ho vinto il premio internazionale del doppiaggio Vincenzo Crocitti che premia anche molte altre categorie il giornalismo il teatro la scrittura la cinematografia ed è un premio ambitissimo perché è equiparato dalla RAI e da Mediaset appunto ai Davide di Donatello e Nasti d'Argento e quest'anno io l'ho vinto con fior fior di miei colleghi abbiamo vinto in cinque io, Francesco Pannofino Roberto Pedicini Luca Ward e Roberto Chevalier che abbiamo conosciuto Chevalier ed è un grandissimo personaggio eh sì quando era piccolo che fa che recita ha fatto tantissimi sceneggiati della RAI Roberto è uno di quelli che veramente sono inarrivabili sai quando nascono geni? come Loris Loddy sono dei geni nascono geni e a questo punto un pochettino una domanda oh ma prima cosa eh i tempi si stanno sempre riducendo le piattaforme chiedono forme d'onda rispetto dei tempi ma a volte non è il caso che poi si vada a perdere un pochettino sulla qualità è di quello che io parlo sempre io combatto per la meritocrazia e per il lavoro di qualità le piattaforme ci stanno distruggendo perché volendo tutto di corsa hanno bisogno proprio di queste voci tutte uguali tutte intercambiabili tutte tecniche che è come se gli infili il gettone dove non ti dico dove e gli tiri la leva e fanno e a loro vanno bene così perché ovviamente chi sta dietro a queste lavorazioni da piattaforma non si capisce come mai dicono di essere esperti in fattore recitativo ma invece non ci capiscono niente non solo prendono sempre le stesse voci perché sembra la fotocopia della fotocopia ma oltretutto fanno un danno alla qualità proprio perché non dai tempo per creare una come dire per creare una una sostanza interpretativa atta ad avere una lavorazione giusta pulita ma ci sono molte sporcature che io sento in queste in queste serie che fanno nelle piattaforme ora sai ma poi non è piattaforma tanto il nostro futuro sarà la piattaforma anche la RAI è diventata piattaforma anche anche Mediaset qui il discorso è come interagire proprio con un discorso di qualità di assenza di carenza di qualità e qui inserisco qui inserisco anche un tema tremendo che è quello dei talent che è ora che li levino dal doppiaggio perché hanno personalmente rotto i coglioni scusa la parolaccia ma tanto non è certo la parolaccia che che crea la volgarità ma è già volgare di suo assistere a degli scempi di gente che non ha mai studiato recitazione oppure ci ha approvato ma non ha neanche la dizione e la mettono lì solo perché ha un nome io lo trovo veramente assurdo ridicolo a questo punto ci posso aggiungere è capitato che tecnicamente è perfetto ma la traduzione il doppiaggio è piatto non è neanche tecnicamente perfetto il talent perché per quanto il direttore gli possa star dietro comunque non è proprio non è proprio possibile perché non è nella indole quelli devono fare i tronisti devono fare le trasmissioni televisive i quiz devono fare le stronzate che sanno fare non devono rubare il lavoro a noi che abbiamo studiato anni perché la recitazione non è facile la recitazione è una cosa fondamentale importantissima e passiamo col fatto che sei anche insegnante sei passato in insegnante qual è la sensazione di avere davanti dei ragazzi in cui davanti a te cercano di sapere con quello che tu gli insegni questo mondo devono devono imparare prima di tutto a essere sempre se stessi si deve sempre dare una parte di sé nell'interpretazione perché altrimenti sei il clone di un'altra persona è giusto rubare dai grandi attori dai grandi interpreti però non devi diventare Giancarlo Giannini come neanche devi diventare Anna Proclemere o Rossella Falc o Romolo Valli no io ti sto citando dei nomi che ragazzini di 15 anni non sanno neanche chi è quindi chi sono pensate vabbè ma io li voglio citare lo stesso non bisogna diventare altre persone bisogna essere noi stessi dando la nostra interpretazione con la nostra intonazione al personaggio da interpretare bisogna dare credibilità io punto sulla credibilità e quindi a un allievo in soldoni perché non è semplice parlare di un insegnamento di dizione e di struttura recitativa così in tre secondi ma ad un allievo si impone la credibilità essere se stessi recitando con la qualità e invece a questo punto davanti a te come direttore di doppiaggio hai Lilli che chiaramente può darti quello che tu pensi che ti possa dare perché la conosci ma poi in realtà in quel momento non riesce a darti quella cosa che tu pensavi che dovesse dare a quel punto come richiameresti Lilli dicendogli e come correggeresti Lilli beh visto che gioco in casa perché dirigo me stessa anche se dovessi fingere di essere qualcun altro non le direi di fare quello che faccio io perché ritornerei al discorso di prima ma le direi di imporsi in maniera più naturale e più critica verso se stessa in maniera tale che si possa migliorare nel momento in cui sta facendo l'anello e Lilli cosa gli risponderebbe sì signora il ma sei anche hai fatto anche radio sì e io la faccio radio io faccio una trasmissione insieme a Senza Filtri su Radio Free Music Web e com'è fare radio intanto è importante per i tempi perché ti aiuta a prendere anche quelli del cinema e poi comunque sia io nasco con il dono di avere molto orecchio a parte la grandezza ma molto orecchio dal punto di vista proprio dell'intuizione quindi riesco comunque a gestirmi per quello che posso in famiglia hai parenti tu sei nipote di due doppiatori qual è stata qual è stata la quando tu l'hai visti doppiare che cosa ricordi di loro ah è la grande la grande scuola la meravigliosa scuola di quelli che interpretavano l'arte con la maiuscola adesso sono tutti bravi doppiatori capaci solo di darsi manforte tra di loro cercando di risultare al meglio credibili e basta per il resto non c'è nient'altro per me la grande arte c'è stata fino ai primissimi degli anni 90 poi è finito tutto è tra uno dei tanti film che noi abbiamo visto Asterix e Cleopatra del vabbè quello vabbè lasciamo perdere non ne parliamo di quello perché quello tu parli del cartone animato quello proprio del nonno ah ecco perché pensavo per la secola Bellucci perché no no parliamo del cartone animato dove è stato vabbè lì è è straordinario perché mio nonno poi ha fatto tantissimi attori Jean Gabin ha doppiato Martin Balsam vi invito a vedere l'inizio del padrino il padrino si apre con mio nonno mentre ci sono i titoli cioè neanche quando c'è l'inizio proprio della della scena proprio che si va va a dissolvenza che comincia a parlare l'attore che sta chiedendo favore a Don Corleone è belli lì è nonno Arturo che parla e qualche tua collega ha detto che il nonno doppiatore in realtà dentro casa non portava mai il lavoro nel caso tuo ti faceva no non ho capito un mio collega qualche tuo collega mi diceva che il nonno doppiatore in realtà non portava a casa il lavoro sarebbe non faceva nessuna voce dei suoi personaggi che ha doppiato in caso tuo nello scherzare ti faceva qualche vocetta qualche voce di personaggio che ha doppiato ah sì sì mi faceva il grande puffo sì ogni tanto mi faceva il grande puffo perché mi divertiva tantissimo benissimo noi guarda intanto hai raccontato a questo punto se ti dovessi fare una domanda e darti una risposta che domanda ti faresti? mi sembra una cosa da Marzullo si faccia una domanda si dia una risposta beh sai io ne avrei tante domande di domande da farmi ma se dobbiamo parlare in ambito doppiagesco direi che cosa ti aspetti Lilli da questa che cosa ti aspetti Lilli da questa tua battaglia per la meritocrazia al doppiaggio pulito e Lilli risponde mi aspetto tantissima condivisione da parte di chi è ancora rimasto pulito da chi non è scorretto da chi ancora ha voglia di mettersi in discussione in maniera onesta e non voglio assolutamente curarmi di tutte le persone cattive invidiose alle quali sto antipatica ma poco male quello è il popolino che deve rimanere dietro di me perché sempre dietro di te parlano quindi stanno bene Lilli ma in realtà poi c'è il rischio che poi questo mondo venga a danneggiarsi se le nuove generazioni non sono capaci di apprendere bene quel lavoro questo lavoro perché è un lavoro che poi prima o poi qualcuno dovrà invecchiare quindi io l'ho detto noi siamo nelle mani di gente adesso che quando non ci sarà più anzi no non siamo ancora nelle mani di questi qua però io mi sto rendendo conto che io sono molto preoccupata per le generazioni future perché se sarò ancora viva tra vent'anni io sarò diretta da gente che quando l'ascolto adesso mi viene la pelle d'oca perché si sente che proprio è doppiagesca non recita non è non è naturale e quindi ripeto se sarò ancora viva io mi autodirizzare che me ne frega sempre che il collega ti chiami perché questi giovani non avranno neanche rispetto per quelli non ce l'hanno adesso il rispetto che vengono bistrattati di quelli che hanno oltre 60 anni perché devono mandare avanti loro i loro protetti o quelli che li fanno lavorare quindi figurati se tra vent'anni io mi posso aspettare a 65 anni e mezzo che qualche ragazzinetto si possa ricordare di Lillie Manzini io spero mi auspico di più di aprire una società e di avere il cliente fisso così almeno gioco in casa e te saluto e quantomeno con me lavorerebbero proprio tutti a rotazione io non io odio i raccomandati odio i preferiti i prediletti a meno che il cliente non dice però quella la doppia quella là quindi la devi chiamare per forza benissimo la chiamiamo per forza ce ne sono tanti di colleghi stronzi ma io li chiamerei sempre solo per la bravura non certo per la personalità guarda che non ce n'è uno a cui non stai sulle palle perché tutti ci stiamo sulle palle perché c'è molta competizione però quando riconosci di essere bravo o riconosci che quel collega è bravo non puoi fare a meno di chiamarlo anche perché il doppiatore recita non solo con la voce ma se deve mangiare mangia la bioscina se deve essere affannato deve muoversi per cercare quello che deve fare l'attore che sta interpretando perché a me così Peppino mi ha insegnato Peppino Rinaldi devi fare quello che fa lei lei sta facendo così e tu mentre parli fai così e poi viene più naturale noi noi ti ringraziamo tanto per strada quando stai in giro c'è gente che ha riconosciuto la tua volta ma se tu che reazione hai avuto che sensazione dunque io non ho le stesse quella quella popolarità perché doppio attrici da Oscar ma io ho la popolarità di quella di quella fascia di persone che che sanno chi sono da da quello che io faccio nei social da quello che io propongo sui social dal punto di vista della meritocrazia le mie lotte una lotta individuale ovviamente la mia non faccio certo la rivoluzione e poi mi riconoscono anche perché io sono la voce di varie protagoniste di serie Disney come anche narratrice di documentari quindi comunque ho il mio entourage anch'io e tra questi ci siamo anche noi eh certo io di questo ne sono proprio fiera ti ringrazio di cuore ti ringrazio perché mi hai raccontato un mondo diverso perché ognuno mi racconta il suo mondo ma te l'ho detto perché qui di là i miei colleghi non fanno come se fosse tutto il paese dei balocchi perché dal loro punto di vista di come lavorano loro io lo posso concepire è normale ma dal mio punto di vista di quello che io vedo nella verità nella realtà sì c'è anche la magia della recitazione ma arrivaci a farlo quello allora prima che ci chiuda il collegamento io ti bacio e ti ringrazio tantissimo di avermi intervistata io ti ringrazio a te perché mi hai imprendito mi hai fatto felice ti ho aperto gli occhi credo vero sì molto di più credo di quanto hanno fatto gli altri colleghi che io comunque per carità per la loro esperienza io li stimo moltissimo però io la vedo in maniera completamente diversa io sono un po' più realista non sono una che che parla soltanto di magia io parlo anche di realtà però la più la emozionante è stata anche Chevralier quando io perché sono abbastanza comunque non giovane ma ho già superato una cinquantica e mi ricordo io gli ho fatto la battuta dicendo ma i Fellini in realtà quando faceva gli attori diceva i numeri sì lui ha detto sì sì io ho doppiato con Fellini effettivamente gli attori diceva e ho fatto tredici in realtà lui nel doppiaggio diceva evviva oppure dicevano i numeri in realtà gli attori non recitavano ma dicevano solo numeri parola a caso questo succedeva anche negli anni quaranta poi tanto ci sarebbe stato il doppiaggio che li aiutava quindi Fellini era molto innamorato del doppiaggio anzi era molto la parte che diceva passa un camion passa un aereo ha lavorato con Fellini tantissimo grazie a Germana Domenici ha lavorato con Fellini nel film l'intervista è stata un'esperienza voglio salutare tutti i nostri diciamo ascoltatori i visualizzatori visto che andrà anche su youtube questa questa intervista e io vedi il mio ringraziamento nei tuoi confronti è importante soprattutto da un punto di vista di merito Pietro perché non c'è chi è più bravo meno bravo più giusto meno giusto ci deve essere l'equità ci deve essere l'obiettività tu riesci a dare da quello che ho percepito nella tua spontaneità nella tua dolcezza nella tua semplicità riesci a misurare ogni persona per quello che è nella nell'input diciamo di quella che è poi la realizzazione di interviste sul doppiaggio quindi io di questo ti sono veramente grata perché è come se tu trattassi un po' tutti allo stesso livello e li devi trattare tutti allo stesso livello sia da quello che ha iniziato due anni fa a quello che lo fa da 50 anni ma lo dico perché siamo esseri umani e siamo solo voci non siamo i salvatori della pace studio 7 in collaborazione con sport e piceno game presenta l'intervista di pietro di un'intervista di pietro di un'intervista di pietro di un'intervista di pietro arning